Presidente, siamo qui all'inaugurazione della passeggiata dei miei chiedi dei Lucchi, punta di diamante di questa esposizione del Salone del Mobile, che vanta una presenza particolare, cioè quella dei ragazzi del polo formativo di Lentere sul Seveso, su cui la ragione ha puntato molto. Ci spiega perché? Beh, puntare sui giovani vuol dire puntare sul futuro, puntare sul mantenimento della tradizione, della grande tradizione artigiana di eccellenza della Lombardia e quindi era un investimento giusto da fare. Qui poi siamo in un luogo di eccellenza nell'eccellenza perché si incontra la creatività, il design con l'operatività, l'arte con il lavoro. È proprio la sintesi di ciò che avviene in Lombardia, i Lombardi sono fatti così, sono gente che lavora, che si fa un mazzo così, ma anche che la Lombardia è un luogo pieno di arte, di cultura, di tradizione. Questa è la sintesi perfetta, i giovani, investire sui giovani, il futuro, l'arte e il lavoro.